Benvenuti nel mondo Ita Inoi. Ita Inoi è un marchio di orologi di lusso fondato nel 2000 da Ita Inoi, un designer israeliano di grande talento. Il marchio è noto per la sua filosofia di design innovativa e per la produzione limitata di orologi esclusivi. Ogni orologio Ita Inoi è considerato un vero e proprio pezzo d'arte, dove ogni dettaglio è curato con grande attenzione dallo stesso Ita Inoi, con l'obiettivo di creare opere d'arte da indossare al polso. Gli orologi Ita Inoi sono prodotti a mano dai suoi artigiani altamente qualificati, utilizzando solo i materiali più pregiati. Uno dei modelli più noti di Ita Inoi è il Time Quarters, ovvero quarti di tempo. Il quadrante a mirino permette di visualizzare quattro quadranti secondari con una finestra ritagliata. Ognuna delle quattro finestre mostra un disco rotante che con l'avanzare delle ore, ruota rilevando o nascondendo il colore, indicando il quarto d'ora della giornata. Ita Inoi ha collaborato anche con altri designer e artisti, per creare orologi esclusivi e unici. Queste collaborazioni hanno portato a creazioni ancora più straordinarie e innovative. Gli orologi Ita Inoi sono molto apprezzati dagli appassionati di orologeria e di design di tutto il mondo. Sono oggetti di desiderio per coloro che apprezzano la bellezza, l'originalità e l'artigianalità di alta qualità. Ogni orologio Ita Inoi è un'opera d'arte che rappresenta la personalità di chi lo indossa, e garantisce un'esperienza unica e indimenticabile. Il marchio Ita Inoi è stato creato con l'obiettivo di creare orologi di lusso esclusivi, che rappresentino l'innovazione e l'artigianalità di altissimo livello. La produzione limitata di ogni modello garantisce l'esclusività di ogni orologio, rendendolo unico e irripetibile. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso che sia anche un'opera d'arte, Ita Inoi è il marchio perfetto per te. Grazie alla sua filosofia creativa, ogni orologio Ita Inoi è un'esperienza unica ed indimenticabile.